Oggi andiamo a vedere la procedura per il cambio lama di forbici Pellenc, Vinion e Prunion. Allora, portiamo subito. La forbice deve avere la lama aperta innanzitutto. Poi prendiamo, apriamo il paramano tenendo schiacciato qui e ci aiutiamo ad aprirlo. Poi teniamo premuto la lamellina che va a fermare la ghiera e iniziamo a svitare. A questo punto abbiamo la ghiera, sfiliamo il perno da sotto, togliamo la lamellina, la spostiamo verso il basso così e la rondellina di plastica. Ora andiamo a togliere anche il perno lama qui sotto e sfiliamo la lama. Ora prendiamo la lama nuova, adesso noi in questo caso rimontiamo la stessa perché comunque è nuova. Mettiamo una goccina di grasso tra lama e contro lama. Basta poca roba, pochissima. Prendiamo la lama, la inseriamo in mezzo ai due braccetti così e facciamo un procedimento inverso. Quindi prendiamo il perno dal basso verso l'alto, lo incastriamo qui, portiamo in posizione la lama, rondellina di plastica, lamella metallica, la inseriamo nel buco più grande e la spingiamo verso l'alto così va ad incastrarsi. Ora tocca al perno lama che se vedete ha una parte appiattita, ok, la parte appiattita va verso la punta della lama, quindi cerchiamo già di posizionarci così, lo inseriamo e dobbiamo far combaciare la parte piatta del perno con la parte piatta della lama. Ecco qua, ora ci teniamo il perno in posizione col dito e andiamo a riavvitare la ghiera. Non esageriamo con la tensione qui, che dopo per vedere la tensione ideale di lavoro ci basiamo su questa rondellina di plastica. Lama aperta deve muoversi, lama chiusa deve risultare bloccata, quindi andiamo a chiudere il paramano e abbiamo fatto il cambio lama.